Ciao a tutti ragazzi, eccoci di nuovo su PlanetSide2 C'abbiamo la motoretta con l'infiltrato che si può indare Allora, usciamo E andiamo a farci una tonda Il nostro socio è morto, vabbè Infatti noi abbiamo ucciso un po' di Tiff Oh, mi sono un pelo incastrato Allora, io mi ricordo che se lascio il coso qua Pura da ricaricarsi piano piano Allora, vi faccio vedere intanto dove siamo Siamo Su Elzamir Ci stanno un pelo schiacciando qua Ma stiamo cercando di difendere questa base abbastanza bene Perché sono in tanti I Terran Republic ci stanno massacrando Dobbiamo farci un'altra tonda Questa è la motoretta che si Eccolo qua Sono rimasti vidi Assistenza di uccisione Qualcuno me l'ha ucciso Eh, l'ho preso da dare Non mi aspettavo che si girasse Se si è girato proprio nel momento sbagliato Eh, vada Eh Non ho fatto nulla niente Eh, fa parte della guerra Ok, ci giriamo Torniamo Allora, torniamo All'attacco Andiamo a vedere Guardate, guardate Non li ho preso Non li ho preso Mancati tutti e tre Provo di nuovo Stanno entrando Non li ho preso Andiamo a farci un giro di qua Devo Vedere un po' come la situazione va questa Non vedo nessuno Mancato il primo Secondo E il terzo Tutti da davanti E lì devo Per far bene Dovevo Passarli via E ammazzarli da dietro Come Sta per fare Con questo E' una andata Adesso vediamo se lascia fuori anche un'altra Non mi vede No Tutto Allora Non mi ha stato a uccidere una Adesso mi devo ricaricare Qui torno Dalle mie parti Non mi è E' un oh Stanno Che è Non Aaron Un miresco E' un I Che é Che è Che è Che to tabii Che Che è Che 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 O Che 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 cosa 거는 dobbiamo vedere cosa c'è qua su no mi sono bloccato ho tutta storia mi sono distrutta la motoretta più si rimane fermi e accucciati e non ti vedi ehhh andare avanti però mi stava venendo contro per cui ho dovuto spararmi vabbè qualche uccisione l'abbiamo fatta vediamo se mi viene ad arrestare qualcuno io ci spero sempre anche mi sa che qua vediamo sono morto qua medici non ce ne sono ce n'è uno da solo qua da solo però la motoretta è troppo divertente quasi quasi mi prendo un'altra devo guardare se si può sumentare qualcosa da motoretta vediamo se mi esca motoretta vabbè l'autorifarazione basta perché tanto quella se ne è colpita telaio osservazione potenziale capacità di arrampicata migliorata si se vai questa cos'è caricatore misura aggiunge due granate capacità del caricatore standard beh questo questo è ottimo munizioni munizioni lo stesso tanto muoio prima di farle fuori ok intanto così potrebbe andare potrebbe andare ok allora andiamo 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 a esplorare un po' io vedo un tizio morto un tizio morto un tizio morto una relicchia di carina indigilità yuhuu un tizio morto e allora qua può fare bene bisogna da entrare qua però di solito mettano le mini anticarre o qualcosa non bisogna io entro qua con la motoretta sento giro e buu 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 Porco cane, non me lo sono accorto Ecco, i miei li uccido subito I loro, neanche se voglio proprio Sto più attento sulla minimap Lui sta in tazzoli si nasce a andare a giudicare No, è quella morta Sto attento, non uccide nessuno Cecchini, non so qualcuno vuole montare Sto attento, non so 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 Sto attento Sto attento, non so sono un po' là, una scherzazione generatore distrutto eh ma inculato? quello di fotterlo io invece no ma ha fottuto lui dobbiamo prendere A che è qua io ero qua perchè qua si fanno un po' di minchiate che c***o è devo fare un c***o di qua buona non c***o c***o non c***o è morto un po' di gente non vedo nessuno ah perchè escono da portale escono da quel portale dovrei piazzare giù qualche minella e una appena fuori dalla sono vivo sono morto guardate quanto era rimasto due minella si è beccato ed è rimasto ancora vivo eh deve essere uno di quelli tosti ecco l'hanno ucciso peccato peccato sarebbe stato bello adesso dobbiamo attaccare il bio lab bio lab allora si può entrare qua c'è un portale andiamo col zinino un po' di che Sì, siamo in giro. No boh mi sono coperti di là Oh dai proviamo C'è un altro lì Occhio In carica Occhio c'è una colcito altro di lì fuori Che il mio ciò è un ticardo Un bel contro il max Minella 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 Where's the top? Che il mio ciò è un ticardo 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 che cos'è il successo di un marzo ecco i molloni tutti o tutti curiamo andiamo a vedere di qua c'è... c'è lì qualcuno che mi invita e lì lo vedo scacchiasso in bosca troppo minella sta minella di merda che facciamo prendiamo il max dai salgo e prendo anche io il max tanto facciamo tutti il max vai il mio salto un po un'unica cosa dov'è portare veni là vai 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 veloce veloce sotto dentro lì è morto un po' di gente è morto un po' di gente a b c a c'è un po' di uscire da qua non so riesco a fare qualche qui e questo è un po' avevo visto nulla ok abbiamo distrutto l'ucr peccato neanche una kill è un classico adesso in teoria dovrebbero salire da qua dietro adesso vediamo se ne becchiamo qualcuno e in più arrivano da quella base mia ok faccio suonare a Erivi non sfruttando ecco no e se lì è scissile la caçurra scissile e coca, scissile la caçurra Chi è che ha tirato? Scusa Dove cavolo è arrivato? È quello che mi fa incazzare Non sono morto, ma anzi che culo Vabbè, vediamo se ci stiamo muovendo al prossimo punto che è qua Giusto bucciam tizzi E' un'azza E' arrivato Piazza Cosa cosa è lo spazio qua? Ci si lancia Niente dai, vi saluto alla prossima Ciao ciao